La finanziaria regionale Friulia investe 3 milioni 100 mila euro con ingresso nel capitale dell'azienda BioValley e il conferimento del 100% della quota al BIC incubatori. Si crea così a Trieste un polo del bio high tech di importanza nazionale e internazionale composto da già 13 aziende per un consolidato complessivo di 7 milioni 800 mila euro. E questa è l'operazione illustrata oggi dalla presidente Friulia Seganti e dall'assessore regionale alle finanze Zilli. Un'operazione importante che conferma il ruolo strategico di Friuli e della regione Friuli Venezia Giulia nel essere investitori in realtà importanti a livello nazionale e internazionale come questa. BioValley è una hold industriale specializzata tra l'altro nei cosiddetti farmaci orfani, ovvero quei farmaci potenzialmente utili nella cura delle malattie rare. L'assessore Zilli ha anticipato che a breve uscirà un bando regionale di 2 milioni riservato proprio alle imprese high tech e bio high tech attive nell'area di Trieste. Lo scopo è quello di attivare un effetto volano sul territorio con una crescita professionale a vantaggio di tutti gli operatori economici. Il BIC, ha spiegato l'assessore, non è solo un centro fisico ma un polo di innovazione internazionale di grande reputazione che la regione vuole continuare a sostenere.